bentornati siamo di nuovo qui eccoci ritornati di nuovo qui oggi faremo un sacco di cose fighe e ci divertiremo un botto oh man io vado a girare come sei scemo ma dici dov'è Diego siamo tornati ok ci siamo siamo tornati a Livigno con Gallus arriva il resto della squadra e oggi faremo un sacco di cose belle prima giremo un po' e poi andiamo tutti al pembo a scassarci ok Gallus andiamo fammi un po' vedere come si fa la linea di salti dai ragazzi pronti via 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 dietro chi è che mi apre la linea grossa volontari dai oh che non c'è vento su vengo dietro si non proprio nel culo che non mi piace vai follow stefano dolpi picca arena sta scappando il ragazzino se lo prendo eh ahahahah arrivo wow è data wow yeah non volevo tornare corto aspetta che sono incastrato permesso wow 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 madonna mia la cosa lì è acceso il for crossista wow 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 ma Gallus mi stavi saltando nella schiena sì 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 poppa tutto ahhh 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 Top che ha dritto holy damn lui era al limite ihan nome mosso segreto del rental via ooooo Aaah Not holy ma questo è pazzo ragazzi Lui è out of control dittà dittà madonna che numeri vedi sei pazzo tbb Sè eld oh oh what i E' un po' di nero! Ancora sto dietro! E' un mese che non uso la bianca Non ti interessa niente, se hai le balle lo fai Hai visto Gallus? Non importa essere freddi Ricordati che il freddo non esiste Vai Galluso! Se, se! E tu che facevi il frocio? Arrivo! Mi è andato a pedalare Arrivo, arrivo, arrivo Ah, quello che fa la mossa Va a nord Quella linea era quella di Che rischio che ho preso Ma quanto vai forte, me Ora dici un atterraggio cattivo Aspettami! Grazie Sono un po' lento, scusate Vale, Pietro Gallus! Sai che questo è il tuo momento? Front slip No, meno Ma lo puoi scegliere tra front slip, superman sea grab, 3.6, superman double grab, flip superman Ma che cosa? Madonna ragazzi Ok ci siamo Però ci siamo finiti di girare Adesso dove andiamo Gallus? Fare il paintball Oggi finisce male qua Dove siete? Ok, ok Siamo pronti Benvenuti in questo video Io, Matteo e Nicola Contro Cristina Chiara Ian E Gallus Faccio un culo grosso così E' zitto Mi sento già pericolosissimo E' pericoloso anche senza quello in mano Stai attento? Chi non ha mai giocato? Sì Tutto è uguale Solo 2-3 regole E' una volta che si entra in campo Bisogna sempre tenerela su Sempre tenerela su Seconda C'è una sicurezza che sarebbe questo tastino qua La sicurezza Non vanno? Vabbè, faccio Oh, oh, oh Schiacciate Vale tutto Vale tutto, vale tutto Io, io, io Pa, pa, pa Pa, 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 pa Quando è che si comincia? E' la mia moglie! Let's go Diego Oh, la mano, vale o no? E' la mia moglie! Allora sono fuori Presa No, mi sa che non l'ho presa Preso Ah, che male F***a Che stecca! Non l'ho presa Non l'ho presa Guarda, guarda 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 Io vado dritto in una paghetta Vieni a stare in centro a coprirvi Guarda, basta Ah! Ah, che schiacci! Ah, che staggia! E' spostata male! Ahahahah 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 Mi hanno leggermente preso in patto Allora eravamo in testa alla fine ci ha fatto un po' il culo in questa modalità come andate ragazzi verso Bene ed ora io ci porto a fare le sgumbe No Niente guarda io nella che fa la recensione della macchina non ci porta perché cattivissimo e quindi prendiamo il mio bolide E allora prendiamo il mio bolide e andiamo a fare le sgommate da soli ecco Un comando per favore Gallus oggi hai girato da paura eh Sì 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 Adesso ti porto a vedere un posto bello figo Sei pronto? Va bene Andiamo Siamo Ciao 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 Madonna ma dai che mi porto Ecco dopo una bella tirata tutto quello che ci vuole da guardarci un attimo all'acqua granda Vedevo l'ora di gillare così Oh Didi ma non è che c'è un posto un po' più divertente? Bene va bene va bene Guardate qua questo Andiamo su di scivoli zio Vai 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 Andiamo Super castrofodico sto c***o Proprio bombone vai No porto lo te ma A sto giro riscontiamo il tubo raga Ok men ci sei? Vai 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 smaniglia Vai 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 Musica Ma non è che cosa succede? Ma non è che cosa succede? Sono troppo rossi per andare in due su questo Se ne incontriamo uno per uno Sì sì È più sicuro Ecco Si è piantato Arrivo Arrivo ti prendo Però oggi su di scivoli è andato Cioè ci facciamo una tazzata con l'idromassaggio Farei col tuo giorno Ah a posto Non so se che mi sento veramente bene Ho fatto un bagnetto Toccina Adesso andiamo a casa Dimenticate i pantaloni? Sì Bene 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 È stata una bella giornata Adesso appena arriva la mia autista Posso andare Ah eccolo che è arrivato Grazie Ho portato uno spettino Oh Possiamo andare? Prego salga pure Grazie Sai già tutto vero? Sì facciamo veloce che ti porto A Monte Carlo Che c'è lo yacht Che ti aspetta Nel prossimo video ci buttiamo dagli yacht privati Non nostri Con il paracaduto Ciao a tutti E al prossimo Diego video Guardate anche i miei per ammazzarvi Andiamo No Oh man Io vado a girare Oh bella lì Oh bella lì Oh bella lì Oh bella lì Oh bella lì